Chiusura di campionato senza sorrisi per le due formazioni abruzzese e la Serie A2 maschile di pallavolo. Già matematicamente salvo, il Pineto completa il suo percorso in regular season al dodicesimo posto, con due punti di margine sulla zona rossa, cedendo in casa al Pala Santa Maria per 3-0 a Ravenna. Non senso aver lottato, come testimoniato dai parziali di 25-23, 25-23 e 27-25 in 87 minuti di gioco a favore dei Romagnoli. E, soprattutto, nonostante i 24 punti di un sontuoso Andrea Sant'Angelo, l'opposto esernino dei Pinetesi, autore di 24 punti, con 63% di positività a rete su 30 palloni attaccati, 3 muri e 2 ace. Termina ammestamente all'ultimo posto in gradatoria, a quota 17 punti, l'Ortona, peraltro con la sesta sconfitta consecutiva nell'attuale Serie Nera, che aveva decretato la discesa in A3 già nel penultimo turno. Gli ortonesi cadono 3-0 a Castellana Grotte, con i pugliesi che nello scenario del Palagrotte si impongono in appena 69 minuti. Per quella che, però, è una vittoria di Pirro. Anche loro, al termine, retrocederanno in A3, con parziali a 21-19-14. Impegnato nella circostanza nel suo antico ruolo di opposto, tra gli uomini di lanci, top scorer è il centrale agnonese Stefano Patriarca, tra l'altro ex di giornata, con 11 punti all'attivo ed il 48% di positività a rete su 23 palloni attaccati. Grazie. 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 Grazie.